I designer sfruttano le cucitori originali delle vele e i loro segni di siti per creare dei motivi unici. Dopodiché una certa cuce i pannelli. E riserva a tessuto. Il precoore è un modo alle volte per verificare che sia di buone condizioni. Puoi aggiungere l'etichetta e i corsi sono privati. Grazie. 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 Grazie.